L'Ufficio Tecnico del Comune di Mistretta ha pubblicato un bando di selezione, per soli titoli, per la formazione di una gradatoria finalizzata al reperimento di manodopera e in particolare di operaio qualificato con mansione di muratore, categoria B1, da avviare nei cantieri di lavoro finanziati dall'assessorato regionale Famiglia Politiche Sociali e Lavoro. I cantieri interesseranno la manutenzione straordinaria di Via San Giovanni e di Piazza dei Vespri. Il bando prevede l'assunzione a tempo determinato di due operai qualificati muratori. Per partecipare al bando i requisiti da seguire sono avere un'età compresa tra i 18 e 67 anni non compiuti, diploma di scuola media inferiore o assolvimento all'obbligo, cittadinanza italiana ma tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, godimento dei diritti politici, requisito professionale specifico di operaio qualificato con mansione di muratore e carpentiere con la presentazione di documenti specifici, come attestato rilasciato da una scuola di formazione professionale riconosciuta, certificato del centro per l'impiego in cui risulti l'attività di muratore o carpentiere, iscrizione alla Camera di Commercio come ditta individuale operante nel settore edile e dichiarazione inoltre con cui il candidato dichiari che la sua attività di impresa sia stata effettuata svolgendo il lavoro di muratore e di non essere stati interdetti dell'impiego presso una pubblica amministrazione. Il bando scade il 5 marzo alle ore 12 quindi chi fosse interessato a questa opportunità di lavoro può leggere il documento che è consultabile sul sito istituzionale del comune di Mistretta oppure regarsi presso l'ufficio tecnico per chiedere ulteriori chiarimenti. In tempi di crisi questi cantieri possono rappresentare per chi cerca lavoro una vera e propria boccata di ossigeno.